Le criticità che caratterizzano il sistema della pesca in Sicilia sono state affrontate nel corso di un incontro tra il presidente del distretto produttivo della pesca Giovanni Tumbiolo e il neoreggente della UGL Sicilia, Giuseppe Messina. L'incontro è stata l'occasione per parlare di un settore trainante, quale quello della pesca in Sicilia, e che tocca da vicino anche la città di Licata. Per il presidente del distretto ed il reggente di UGL Sicilia, il dibattito deve essere preordinato al raggiungimento di alcuni obiettivi di programmazione per dotare la regione finalmente di una strategia della pesca nel Mediterraneo, a partire dal lavoro, dalla pesca artigianale, industriale e da tutte le specificità che sono la vera ricchezza del grande patrimonio pesca di cui la Sicilia dispone. Tumbiolo e Messina guardano con speranza e favore all'iniziativa dell'assessore regionale all'agricoltura e pesca Nino Caleca di riunire gli stati generali della pesca. Per Tumbiolo e Messina la regione ha il dovere di rivendicare un ruolo guida nel sistema pesca italiano e mediterraneo, e per questo è bene mettere insieme le risorse umane per ripensare a una nuova filosofia della pesca mediterranea. Il risultato di 15 anni di interventi europei e di oltre 350 milioni di euro distribuiti, hanno sottolineato Tumbiolo e Messina, è la perdita di 10.000 posti di lavoro. È necessario pertanto che la Sicilia prenda consapevolezza del suo ruolo di guida tra i paesi del Mediterraneo e cluster biomediterraneo all'Expo 2015 di Milano può costituire un momento importante di rilancio. Il presidente del distretto della pesca ed il reggente di UGL Sicilia si rivedranno nei prossimi giorni insieme ai tecnici delle due organizzazioni per programmare la partecipazione del quarto sindacato confederale italiano ad ottobre del 2015 alla quarta edizione di Blue Sea Land, l'Expo delle eccellenze dei distretti agroalimentari del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente.